Grazie Presidente. Allora oggi discutiamo questa proposta di delibera sul contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti. Purtroppo a Roma ci sono tantissime situazioni in cui i cittadini incivili si sentono autorizzati a sversare rifiuti in luoghi dove non sono i cassonetti e magari anche un frigorifero o un elettrodomestico vicino proprio ai cassonetti. Ecco questa operazione ha dei costi molto elevati per la città. Solo nel 2018 Roma Capitale ha speso 3 milioni di euro per pulire questi siti spendendo costi in extra tari e pensate che questi costi scattano quando i rifiuti superano i 5 metri cubi per cui ci sono tantissime volte che Ama pulisce dei luoghi magari è sotto i 5 metri cubi per cui di fatto c'è un costo per Ama ma non viene imputato in questa spesa generale che Roma Capitale sostiene. Ecco noi abbiamo pensato già da luglio scorso di dedicare un gruppo di agenti di polizia locale che perseguisse le persone che sversano in modo illecito i rifiuti. Questo gruppo attraverso le segnalazioni dei cittadini, attraverso gli appostamenti delle volte anche la notte sono riusciti in solo nove mesi ad effettuare ben 1600 multe. Pensate che in tutte le zone periferiche della città hanno constatato che il 30% delle multe che vengono effettuate sono di persone che provengono da comuni limitrofi per cui non sono cittadini romani, ben il 30%. Questo è un tema molto caldo per l'amministrazione perché già da diverso tempo abbiamo stanziato 500 mila euro per installare telecamere proprio sul contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti e non solo ma di recente abbiamo anche noleggiato delle fototrappole, degli strumenti più agili, più snelli, che sono autoalimentati, che si possono spostare con estrema facilità e che abbiamo capito che forse sono gli strumenti più idonei per sanzionare quei cittadini che hanno sversato in modo illecito un rifiuto. Questa attività di questo gruppo di polizia locale ha fatto sì che la sindaca... Se i colleghi cortesemente prendono posto e evitano di discutere e magari anche chiedo la cortesia al pubblico di limitare il rumore perché sennò si fa una fatica tremenda a seguire e ascoltare gli interventi dei colleghi. Prego consigliere, prosegua. Grazie Presidente. Stavo dicendo che proprio l'attività di questo gruppo di polizia locale ha fatto sì che la sindaca abbia pubblicato dei video di persone che hanno sversato in modo non regolare i rifiuti. Io ricordo oramai già da parecchio tempo il primo video che è stato pubblicato a seguito dell'installazione delle telecamere. Nel giro di due giorni ci sono state 850.000 visualizzazioni. Questo per far capire che questo è un tema molto sentito dai cittadini che vogliono che coloro che sversano in modo non regolare i rifiuti siano multati e sanzionati. Che cosa individuiamo con questa proposta di delibera? Di fare in modo che tutti i video degli sversamenti illeciti vadano a un gruppo di polizia locale dedicato a questo lavoro. Ad oggi i Pix Ambienti si sono concentrati sui video dei cittadini, su segnalazioni varie e appostamenti. Da adesso in avanti controlleranno anche le telecamere installate da Roma Capitale e nonché i video delle fototrappole. Per cui facendo questa attività noi chiediamo con questa delibera di potenziare numericamente questo gruppo di lavoro, di agenti, di dargli tutti gli strumenti per poter agire con la massima reperibilità. Chiediamo anche che possano trovare dei contatti con le polizie locali dei comuni limitrofi per andare ad individuare soggetti che vengono a sversare a Roma Capitale dei rifiuti ma provengono da altri comuni. Per questi motivi noi stiamo presentando questa proposta di delibera, ci teniamo, chiediamo che questo sia un lavoro molto importante che fa sì che si possa arrivare ad avere un comportamento più civile da parte dei romani. Ciò che è importante non è soltanto multare ma è anche pubblicare i video dei cittadini che hanno sversato in modo illecito i rifiuti in modo tale da far capire che c'è un controllo della città. Attualmente noi stiamo per noleggiare e aumentare gli strumenti di videosorveglianza specifici su questo argomento per cui riteniamo che nell'anno a venire si possa fare un ottimo lavoro potenziando questo gruppo di lavoro specifico su questo argomento. Dico già adesso che ho presentato due emendamenti a questa proposta di delibera che poi mi riserverò di poter motivare quando andranno in votazione. Grazie Presidente.